a riparo sono al porto riempite di piombo un altro vittima da sacrificare servono rinforzi subito come dare la caccia ai topi non voglio morire porta il culo dietro a qualcosa ricarico comprimi le spalle è già morto a vedere cosa avviene apro il fuoco è qui muovetevi cazzo prendete quel figlio di puttana hai fatto troppo oh merda merda mi ha preso portatemi all'ospedale cazzo quel coglione mi vuole morto sei un bivio junior puoi lavorare per me oppure ok va bene adesso levati dal cazzo ma certo il stronso se le dà taggato guaiti non c'è Il territorio mi è stato promesso 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 Grazie a tutti. 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 Vuole sparare a qualcuno... Comunque sì, eh. Grazie a tutti 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 Facciamo fuori quei coglioni al porto Merda in arrivo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti